Musica Signore e signori, buonasera e benvenuti alla Novara Travel Show 2016 by online Musica It's misplaced and I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention I have to be me 24-7 Oh no, no, no No, no, no Oh no, no, no No, 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 no And also be the hit of the party Let's just break it down to you and me uptown Dancing all around till the disco ball pops But I have to be me and everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no Never gonna stop No, 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 no Hey, 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 hey I ain't never gonna stop No, no, no Oh, I ain't never gonna stop No, no, no I ain't never gonna stop No, no, no Never gonna stop No, baby, yeah Yeah, yeah andiamo a dividere dopo a voi i trasferenti la fotogramma, pronti? allineate la spalla destra e tirate la sinistra adesso avvicinate e tornate con la sinistra poi appoggiate e tirate il braccio dietro a questo punto le anche sono in direzioni diverse allineate solo le anche senza muovere le spalle anche la sinistra e la sinistra grazie a tutti Grazie a tutti. Come ti chiami? Francesca.